Che vergogna, ma l'hai saputo? Ma l'hai saputa sta roba di Dragon's Dogma 2 e dei DLC? Il popolo sovrano del web si è inferocito contro il nuovo capitolo prodotto da Capcom di un titolo che effettivamente non si vedeva in giro da 14 anni orgiù capitolo secondo di Dragon's Dogma che arriva sul mercato e che fino all'uscita oh, fino all'uscita tutti andavi in giro e facevi una domanda ma cosa ne pensi di Dragon's Dogma 2? capolavoro dell'opera RPG più bello di sempre, incredibile titolo fantasmagorico, tutti così arriva, esce, le recensioni ne parlano anche insomma bene perché comunque è un titolo che sembra avere tutta una serie di pregi e qualche piccolo difetto lungo il percorso e su questo comunque ci arriviamo fra poco ma la gente non gliene frega niente del gioco ma chi se ne frega se ha forse uno dei sistemi di intelligenza artificiale per i comprimari chiamati in questo gioco pedine, più intelligente di sempre chi se ne frega se ti offre la massima libertà di espressione in un genere del RPG chi se ne frega perché? Perché ci sono le microtransazioni e allora mortacci vostre adesso vi dobbiamo imparare facciamo un po' di ordine facciamo un po' di ordine perché non solo il web si è diviso ma anche tanti miei estimati colleghi si sono buttati subito su questa faccenda ma come sempre, come sempre, io non voglio mai giudicare nessuno lungi da me, lungi da me peccare è umano, perseverare è divino però, però, bisogna comunque riconoscere che laddove c'è un caso controverso come quello di questi DLC di Dragon's Dogma 2 è bene forse informarsi prima di sentenziare e allora non vuoi che io, conduttore del Frank News, non mi sia informato a dovere su queste microtransazioni dell'oscurità e della malvagità all'interno di Dragon's Dogma 2? quella sicuramente più fastidiosa, quella che ha generato più malcontento è quella legata al sistema di viaggio rapido all'interno di Dragon's Dogma 2 c'è appunto un sistema che permette di fare dei viaggi rapidi ma prima di far ciò bisogna fare tre passi indietro Dragon's Dogma 2 è un titolo che pone l'accento sull'esplorazione pone l'accento su il mondo di gioco e su come esso reagisce perennemente in funzione delle tue azioni è qualcosa di molto bello e affascinante oggi non posso ancora permettermi di uscire con una recensione perché lo sto ancora giocando ma per queste mie prime impressioni dopo già circa una dozzina di ore posso dire che effettivamente mi ha catturato questo mondo di gioco questo sistema di pedine che si mescola perfettamente con decisioni e a volte anche proprio volontà intrinseche di questi personaggi che a un certo punto ti può capitare la pedina che fa aspetta aspetta io conosco la strada per andare a fare quella missione che ovviamente tu prima attivi vieni e ti ci porto io e quindi tu segui un tuo comprimario preso magari anche a cavolo che però siccome per motivi X conosce alcune cose lui è capace, lui o lei è capace di portarti alla destinazione oppure personaggi in grado di difenderti personaggi in grado di darti consigli in grado di raccogliere i materiali di trovare ceste nascoste ma tutta sta roba siamo proprio sicuri di averla vista di recente? a me non mi sembra e quindi questo è già solo uno dei tratti più importanti più particolari di Dragon's Dogma 2 che vanno valorizzati e così come appunto non solo si valorizza appunto questo sistema di personaggi ma anche l'esplorazione stessa come dicevo prima perché? perché le missioni non sono mai vai al punto A e vai al punto B ma sono sempre un mix divertente intelligente che cerca anche di stimolarti un po' ad un ragionamento mai troppo scontato su come approcciarsi alle missioni voglio raccontarti questo caso questa sequenza di missioni che comunque io ho trovato stra interessante cioè all'inizio del gioco bisogna insomma si hanno diverse missioni ma bisogna andare a liberare il magistrato che si trova all'interno delle prigioni della capitale perfetto e allora si va a parlare con un tizio e questo tizio è disponibile solo di notte allora vai aspetta che faccia notte poi vai lì gli parli con lui ci vedi le informazioni ti dà la chiave per poter andare nelle prigioni perfetto vai nelle prigioni trovo un vestito da cavaliere me lo metto così le guardie non mi dicono niente perché è una zona ovviamente insomma ad accesso limitato arrivo dal tizio e il tizio mi fa col cavolo che scappo io cosdo tanto bene mi devi trovare un posto che abbia dei libri ma tu dove sarà il posto con i libri a quel punto il gioco non è che ti dice vai lì vai là vai giù vai su non sai cosa fare e quindi io ho fatto la cosa più logica di tutte sono andato a parlare con il tizio che mi aveva detto mi aveva dato la chiave e da lì ho capito delle informazioni che a loro volta mi hanno permesso di andare ad un'altra parte e ad un'altra parte ancora e fare un'altra missione e poi e alla fine di una serie di coincidenze forse poco coincidenze ma comunque ben mascherate sono riuscito a trovare sto benedetto posto per il magistrato e l'ho liberato tutto questo però per dirti che a volte da una semplice missione non propriamente strutturata ecco che ne esce fuori qualcosa di magico qualcosa di articolato qualcosa che può veramente divertirti poi sì il comparto tecnico perlomeno nella versione che ho provato su PlayStation 5 non grida all'ultimo miracolo è un re-engine che se nei Resident Evil sfoggia bellezze incredibili qui forse ha un po' iniziato a mostrare qualche lato debole magari i vasti open world non sono proprio il forte per questo motore grafico però insomma ci sono anche i Monster Hunter che sono comunque molto belli visivamente non lo so forse anche un po' il fatto di giocare su PlayStation 5 con alcuni limiti alcuni blocchi che attenzione il framerate non è un problema eh sono 30 fotogrammi al secondo che raramente scendono sotto la soglia psicologica dei 30 ma più delle volte io li ho visti abbastanza ferrei perciò non mi ha disturbato il fotogramma mi hanno disturbato i dettagli e forse un po' la render distance generale e dopo tutto sto pippotto su Dragon's Dogma 2 bisogna ritornare al focus di questo video cioè le microtransazioni perché nonostante quindi ci sia comunque dietro un titolo che appunto offre tanta esplorazione varietà di combattimenti e le classi il sistema ruolistico eccetera eccetera e la gente è rimasta molto scottata da queste microtransazioni ma soprattutto c'è stata una gran parte dell'utenza anche qualche content creator che forse si è fatto accecare da questa rabbia generale cercando di puntare il dito su qualcosa che però in realtà non esiste è già perché nel caso specifico delle microtransazioni legate ai viaggi rapidi in Dragon's Dogma 2 se non lo sai funziona in questo modo ci sono sparsi per il mondo di gioco ovviamente nelle grandi città all'inizio del gioco si va nella capitale e la si vede già lì questa prima roccia del teletrasporto chiamiamola così bonariamente perché non mi ricordo il termine specifico comunque questa roccia magnifica è in realtà non una destinazione ma è un beacon cioè sostanzialmente è un punto dove tu sai che ti puoi teletrasportare lì ma solo dopo che tu l'hai visto lì che sta lì bello bello simpatico se vuoi teletrasportare devi utilizzare queste pietre del teletrasporto che il gioco comunque ti offre non è che le trovi nella prateria però un po' di esplorazione io già ce ne ho tre quindi e non le ho comunque usate ripeto le trovo a questo punto se io mi trovo in mezzo ai boschi sperduti e non ho voglia di ritornarmene a piedi magari perché sta accadendo il sole non voglio rischiare di incontrare troppi nemici di notte perché ci sono notte allora cosa faccio? uso questa pietra e posso andare ad esempio nel luogo dove ho visto il pietrone gigante molte persone si sono confuse su questa cosa cioè pensando che le pietre servano a semplicemente teletrasportarsi un po' ovunque quando in realtà non è così ma anche se fu sbagliato o non sbagliato che sia il concetto rimane sempre il fatto che comunque tutte queste cose le si possono ottenere in game ah Frankie ma allora cosa stai dicendo? stai giustificando forse il fatto che siccome si possono trovare in game allora va bene che l'abbiamo messo in commercio eh? stai dicendo questo? no per favore no anche io mi trovo comunque dalla parte di chi giustamente si lamenta dell'inserimento di queste microtransazioni che comunque oggettivamente parlando non intaccano l'esperienza finale del giocatore perché se io anzi proprio io decido di non acquistare neanche una microtransazione io posso ottenere tutto quello che appare lì e lo posso fare senza problemi semplicemente gioco eticamente è qualcosa di sbagliato sì è comunque qualcosa che non piace che stona che comunque digerisci in maniera molto difficile intendiamoci a un gioco single player non è il classico free to play online che la diceva vabbè si dai no è un titolo fatto e finito dove stona questa aggiunta però però è un'aggiunta che va contestualizzata tutti si sono lamentati di dragon's dogma 2 in maniera anche così tanto feroce eppure ma espertini sommelier della critica ma li abbiamo viste le microtransazioni in resident evil 4 in resident evil 2 in resident evil village cioè li abbiamo viste le microtransazioni anche in altri titoli di capcom perché anche lì ti potevi comprare il ticket per potenziarti l'arma dei bonus per la valigetta delle armi extra le skin cioè eppure lì le valutazioni su steam estremamente positive dragon's dogma 2 pa criticato come mai quindi da una parte ci metto anche proprio la giustificazione del è diventato un caso mediatico è diventato un caso virale e allora la gente pa 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 subito a distruggerlo però io la prima cosa che ho pensato è stata ma non è la prima volta che lo fanno cioè perché perché oggi sì e ieri no ripeto questo comunque non va ad intaccare l'esperienza finale del gioco purtroppo c'è non ci si può fare molto capcom è comunque ricorsa ai ripari giustificando ah guardate che li potete ottenere gioco sì però probabilmente certe volte fai più bella figura nel non metterli per niente lasciando il gioco pulito così com'è e al massimo metti dei DLC a pagamento ma che siano espansioni di gioco che siano nuove cose di trama nuove missioni non la possibilità di modificarti il personaggio che tra l'altro lo puoi sempre fare lo puoi fare quindi perché perché semplicemente per accelerare alcuni processi è questo che vogliamo dare come giustificazione per velocizzare alcune cose ma chi se ne frega cioè piuttosto metti dei metodi simpatici dentro al gioco per farmare dei crediti per farmare dei punti cioè è come se su Elden Ring ti mettessero le anime a pagamento cioè nel senso uno lo fa le va le farm però capite sempre quel concetto quindi io nel frattempo mi sto divertendo su Dragon's Dogma 2 era bene anche fare questo video diciamo così di intermezzo perché questi giochi sono talmente troppo lunghi che io poi mi ritrovo spesso a dover far passare molto tempo prima di uscirmene con la recensione effettiva quindi nel frattempo se uno mi chiede ma che ne pensi di Dragon's Dogma 2 mi sta piacendo molto se ti piace il genere degli RPG sicuramente fa al caso tuo però bisogna approfondire un po' di più per ora però vai positive e nell'attesa dei prossimi DLC a pagamento magari voglio fare il DLC video con Franky secondo me sarebbe una bella cosa da aggiungere comunque puoi vedere l'ultimo video uscito finora che trovi qua a destra oppure a sinistra la playlist del Franky in uso con tutte le notizie per rimanere sempre aggiornato sul mondo videolutico tecnologico e poi basta perché altrimenti sarebbe un TG